Salve, nel 1976 uscì un film che fece abbastanza successo, si chiamava appunto Quinto Potere. Era un film che tendeva ad ironizzare e fare della satira sul potere televisivo e giornalistico degli anni 70. In America. Tutto normale naturalmente, se non che poi questo film diventò appunto una profezia per quelle che poi sarebbero state i decenni a venire. In pratica oggi il giornalismo diventa sì satira perché non ha più quella capacità, quel dovere di informare la gente, ma si prefigge di formarla. Quindi quello che una volta era il cronista oggi diventa l'opinionista, quello che era una volta il giornalista oggi è un giornalista che fa opinione, dice le sue, si vanta di quello che è la sua ideologia. Molte volte si cercava di essere imparziali, oggi invece si fa vanto di essere una persona, un professionista che può liberamente esprimere la sua visione, anche se questa visione poi viene anacquato dalla sua ideologia. Quindi lui può fare informazione, ma appunto come dicevamo prima, quell'informazione se è bypassata da quella ideologia che è il perno, il centro di tutto, non diventa più un'informazione ma diventa una formazione. Oggi come oggi non è necessario che le fake news vengano attuate, possiamo prendere una notizia, portarla alla ribalta, quella notizia possiamo anche manipolarla in modo tale che poi ne possa venire fuori una condizione di propaganda e di rafforzamento del proprio pensiero e di quelli che la pensano come noi. Quindi a prescindere da tutto ci può essere una verità in tutto ciò che si dice, ma quella verità naturalmente essendo manipolata diventa un'opinione. Ma a noi delle opinioni degli altri che servono per rafforzare le nostre ci interessano poco, ognuno di noi ha le sue convinzioni che se le può anche tenere e che giustamente può in qualche maniera vivere di quello e essere convinto. Quindi molte volte noi andiamo ad approvvigionarci notizie da chi ci dà quelle belle confezionate che a noi piacciono tanto. Ma al di là di questo, che poi diventa alla fine solamente proselitismo di un proprio fanatismo, appunto come dicevamo all'inizio, il giornalismo che da quinto potere e ironico degli anni 70 diventa primo potere, poco ironico e molto concreto degli anni a venire, quindi anche dei nostri anni. Oggi come oggi quello che è il potere politico viene sicuramente bypassato dal potere mediatico, quindi vediamo ogni singola forza politica che fa la sua passarella all'interno dei programmi televisivi, dei contenitori televisivi, qualsiasi essi siano, quindi se il partito è di destra può andare comodamente in quello di sinistra, così il contrario, a prescindere da quella che possa essere poi la fonte amica che in qualche caso poi diventa anche fuoco amico. A prescindere da questo, noi entriamo in una realtà poco virtuale, poco virtuosa, quindi abbiamo capito che il potere politico, quindi il sistema, ed il potere mediatico, quindi il sistema comunicativo, si fondono, hanno bisogno l'uno dell'altro per sostenersi. Ed è anche per questo che poi, nonostante si sia messa a mano alla legge sull'editoria, quindi un minor contributo verso giornali e quant'altro, in modo che comunque si potessero in qualche maniera fare da sé, quindi non si capisce perché bisogna dare milioni di euro ai giornali che non funzionano e non si potrebbe dare il reddito di cittadinanza che viene contestato da più parti. Quindi il povero Cristo che non ha soldi può morire di fame, ma il giornalista che invece non riesce a vendere, in qualche maniera deve essere tutelato. Questo per farvi capire quanto il potere mediatico sia forte, soprattutto sia anche in qualche maniera ricattatorio. Ma a prescindere da questo, che cosa porta a sviluppare questo video oggi? Porta al fatto che comunque la comunicazione che avviene nei giorni nostri sicuramente deve essere una fonte primaria di esercizio e controllo delle menti altrui. Naturalmente il potere bypassa relativamente, ma dà la sua impronta, quindi quello che noi viviamo oggi in maniera un po' isterica, un po' fuori controllo, è quello che ci detta sia il mondo in cui viviamo e sia l'informazione a cui noi dobbiamo per forza trarre lo spunto. Quindi cosa succede oggi? Abbiamo appunto nel giorno del primo aprile del 2020 una reale situazione di pandemia, una reale situazione di dati che ci vengono forniti tutti i giorni dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e da altri siti specializzati, che ci fanno vedere appunto che il covid-19 o coronavirus, come volete chiamarlo voi, imprime nella nostra società una moria di persone piuttosto elevate, un contagio altrettanto elevato e quindi anche in maniera relativa una guarigione. Ma ricordiamoci che le guarigioni non sono tali perché comunque possono passare i sintomi, si può stare bene, ma non è detto che si è guariti del tutto. Quindi a prescindere da questa situazione, noi oggi abbiamo la concentrazione totale su quello che è questo virus, ma quello che sfugge ai più e quello che l'informazione non ci vuole dire è che non si muore solo di coronavirus, si muore anche di coronavirus, si muore anche di covid-19, ma non solo. Quindi se noi dovessimo fare dei parametri, e in questa tabella sono abbastanza evidenti, della mortalità delle persone, avremo una visione, uno specchio della realtà ancora più triste di quello che è fornito dai media in questi giorni. Ecco lo specchietto che voi vedete, parte appunto dal primo gennaio, dall'inizio dell'anno, fino al 25 di marzo, quindi abbiamo uno spettro di circa 90 giorni più o meno, quindi gennaio, febbraio e marzo. Abbiamo il primo dato, appunto quello che a noi tocca, ovvero il coronavirus, il covid-19, con 21.297 morti, un dato significativo, ma l'influenza stagionale, che poi anch'essa viene sempre dall'Asia o comunque paesi circostanti all'Asia, ha un numero cinque volte tanto, quindi abbiamo 113.000 casi. Poi abbiamo quei decessi che noi non diamo molto peso, perché non sono malattie che ci toccano più di tanto, la malaria, la malaria è dieci volte tanto la morte di coronavirus. Poi abbiamo un altro tipo di mortalità, questa è ancora peggiore, è peggiore perché ci fa capire che non è una malattia del corpo, ma è una malattia dell'anima. Abbiamo questo dato che è terribile, è terribile perché quando noi abbiamo visto negli anni scorsi la mortalità degli imprenditori italiani, in un anno se ne sono contati mille, abbiamo aperto o veramente abbiamo squarciato una pagina di dolore su quello che è il sistema italiano del mondo del lavoro e sulla problematica del mondo italiano per quanto riguarda appunto la gestione del lavoro autonomo. Quindi il suicidio è un totale di 249.000 casi, non sono pochi. Poi abbiamo quello che è la fatalità, praticamente abbiamo gli incidenti stradali, quelli che tu pensi che non ti capitano mai invece ti capitano. Quindi è quel tipo di dato che tu non puoi fare niente perché possono capitare per tanti motivi. Poi sicuramente in alcune situazioni la propria disattenzione, gli eccessi sicuramente ne fanno da padroni, assolutamente sì. Però gli incidenti stradali, e questo è il fatto che capita, perché molte volte noi non diamo troppa importanza alla sicurezza, sono 313.000 casi, quasi 314.000. Un altro dato sconvolgente è l'AIDS, praticamente quella che noi pensavamo che in qualche maniera si potesse tamponare questa moria di persone che appunto attraverso rapporti sessuali hanno contratto questa malattia, è un numero piuttosto elevato, 390.000 casi. Quindi l'AIDS ancora oggi fa paura, uccide, uccide tanto, soprattutto per il fatto che vi sono persone che non usano rapporti protetti, quindi a loro rischio e pericolo si espongono a questa alta possibilità di contagio e quindi di conseguenza una via troppo semplice per morire. Ecco, quindi si possono usare tante precauzioni, si possono usare tante metodologie per poter veramente avere dei rapporti decenti, ma non bisogna assolutamente sfidare la vita. Poi abbiamo 581.000 casi di morte per alcol, ecco quello che lo Stato ti dà la possibilità di poter dopo 18 anni fare della tua vita quello che vuoi, quindi visto che ci sono le tasse sui superalcolici si possono guadagnare attraverso l'alcol, quindi diventa illegale, è una specie di droga che noi in qualche maniera abbiamo legalizzato, lo Stato ci lucra sopra, quindi tu puoi morire per alcol, si fanno le campagne anche per quanto riguarda il combattere gli alcolisti, gli alcolisti anonimi, tutte queste grandi forme di aiuto alla società che sta male, però di conseguenza il numero che ne traiamo, 581.000, ci fa capire che qui di persone che stanno veramente male, ma veramente veramente male perché si rifugiano nell'alcol, è un numero elevato. Praticamente se noi piangiamo la malattia dell'anima che è il suicidio con 249.000 casi, qui li doppiamo addirittura, li doppiamo non solo di qualche unità, ma addirittura abbiamo 81.000 casi in più del doppio di quello che è il suicidio, quindi una cosa devastante. Poi naturalmente abbiamo le morti per fumo, che si riassumono nei concetti a tutti quelli che sono le morti per alcol, in cui appunto lo Stato deve guadagnare qualche cosa e allora di conseguenza, anche se mette sui pacchetti la scritta si può morire, però insomma si pensa che questa cosa non basti, non riusciamo a entrare nel cervello delle persone per farle rendere conto di quanto 1.162.000 persone nel giro di tre mesi possano essere morte per questa problematica, non è poco. Poi ci sono i morti per cancro e qui in questo caso non possiamo dire niente perché il cancro è sicuramente una piaga a cui nonostante si facciano ricerche non sia ancora giunti alla possibilità di curare e anche le cure che ci sono spesso e volentieri agiscono in maniera relativa, quindi quasi 2 milioni di persone che muoiono per cancro e noi non possiamo assolutamente dire niente, non possiamo assolutamente dare nessuna critica, anzi si può essere solo solidali con queste persone che veramente, soprattutto per chi ha avuto il cancro alle ossa, ha fatto un tumor al pancreas, così hanno fatto veramente una fine dolorosissima, quindi tanto di stima per queste persone. Poi abbiamo sicuramente la morte più vergognosa del sistema umano che è quella della morte per fame. Pensare che in soli tre mesi siano morti 2 milioni e quasi e mezzo di persone perché noi gente piuttosto opulenta abbiamo la possibilità di andare al supermercato e scegliere i prodotti che vogliamo, mentre ci sono persone che non hanno neanche la possibilità di scegliere se poter mangiare o meno. Ecco davanti a questa cosa qui, davanti al fatto che noi alla fin fine abbiamo da una parte i nostri bambini che sono stressati perché mangiano troppo e hanno dei problemi, dall'altra parte abbiamo dei bambini che sono meno stressati ma non mangiano niente, quindi molte volte appunto ricordiamoci di queste cose. Poi è vero che esistono tutte le organizzazioni nazionali che si battono contro la fame del mondo, ma visto che siamo in una società globalizzata e civile, pensare che esistono ancora 2 milioni e mezzo di persone che muoiono nel giro di tre mesi, penso che di civile non ci sia ancora niente. Molti si battono perché i migranti possono avere un futuro migliore, ma insomma visto che per 2 milioni e mezzo di persone manca il bene primario, rendiamoci conto se forse le nostre battaglie non siano state fatte in maniera un po' poco superficiale. E poi per chiudere andiamo al grande numero, 10 milioni di esseri viventi muoiono per aborto e qui non c'è niente da dire. Noi sappiamo che quest'ideologia che ha permesso in questi ultimi decenni di poter sviluppare l'indipendenza della donna attraverso la soppressione di un essere vivente, davanti a questa legalizzazione della libertà della donna è naturale che vi siano delle vittime. Le prime vittime sono appunto queste. Quindi 10 milioni di persone che non vivranno per dire appunto che la donna è libera di gestire il suo corpo. Peccato che poi gestisca anche il corpo di un altro essere vivente, ma a prescindere da questo noi possiamo solamente pregare per queste persone, possiamo solamente dare a Dio riparazioni per questo crimine che è appunto l'aborto, perché è un crimine legalizzato, è un crimine che anzi non solo legalizzato, ma viene ritenuto una giusta lotta, un giusto modo per poter essere così, per poter far vedere che una persona sia libera. Ecco, la libertà vera non esiste perché la vera libertà è quella che inizia dove finisce la mia. Quindi se la mia libertà arriva a un certo punto è perché non tocco la tua. Ma a prescindere appunto che l'aborto poi possiamo ricollegarlo a quello che è appunto anche l'AIDS, che appunto sono questi rapporti non protetti, ma a prescindere da queste analogie di modo, quello che interessa a noi è appunto dire che bisogna sempre informarsi, ma informarsi in maniera corretta. Bisogna sicuramente formarsi, ma formarsi a quelle che sono le condizioni che un credente, che un praticante, che uno che veramente vive in Dio deve avere. Quindi abbiamo una sequela di morti, il totale lo potete trarre voi, e questo è un totale parziale appunto dei primi tre mesi, e ci fa capire che le società che non vivono in Dio relativizzano tutto. Il Papa Emerito, Papa Benedetto XVI, ha detto appunto che il mondo muore perché tutto viene relativizzato. Quindi anche queste morti sono tutte relative. Detto da un Papa, detto da un teologo, detto da una persona che più di tutti è vicino a Dio, ci fa capire quanto Dio attraverso questi profeti, attraverso queste persone, stia parlando al mondo. Ricordiamoci sempre che, cosa dice il Signore, io non voglio la morte del peccatore, ma che si converte e viva. Ecco, preghiamo per tutte queste persone che sono finite appunto nel numero dei deceduti. Preghiamo perché veramente queste persone vivano la seconda vita, la vera vita, la vita eterna, e che non siano solamente dei numeri statistici, ma siano delle realtà che ci fanno capire che il sistema così non va, che Dio veramente è stato messo in un angolo, che il Signore realmente non può agire. Per tutte quelle volte che noi sentiamo dirci, ma Dio dov'è che succedono tutte queste cose? Ecco, Dio è proprio in questi numeri in cui il sistema banalizza, ma la realtà invece incrimina. Avete abbandonato Dio, avete abbandonato questi uomini. Grazie.